Ciao ragazzi, diamo un'occhiata alle novità di Jelly Bean nella edizione di Samsung per il Galaxy S3, aggiornamento ufficiale stiamo facendo ora il boot, vediamo quanto tempo ci mette ad avviarsi e ricordo che molti hanno lamentato anche per la release italiana appunto, per il rilascio in Italia, un fenomeno di battery drain cioè di consumo eccessivo della batteria su questo mi devo esporre dicendo che i primi giorni è esattamente così sembra che ci sia il battery drain, la batteria dura considerevolmente poco nei giorni successivi poi si riprende lo stesso vale per gli scatti, se avete visto ha scattato leggermente prima queste qua sono immagini prese, come vedete comunque è sempre istantaneo il caricamento delle applicazioni e di tutto quanto ma come avete notato in alcuni momenti può fare degli scatti come adesso, ecco ora l'ha caricato bene prima invece aveva fatto lo scatto per aprire il menu e ciò succede nei primi giorni dopo aver installato la Jelly Bean poi non so perché sparisce completamente ad ogni modo, vediamo anche le cartelle che sono state riorganizzate e sono più simili alla versione di Google la barra delle notifiche è stata anch'essa resa più simile a quella di Google e vedete che lo sfondo di sotto si scurisce man mano che si abbassa la barra molto carino poi chiaramente i soliti pulsanti a scorrimento ricordo che sempre per quanto riguarda le notifiche funzionano come in Jelly Bean quindi abbiamo le notifiche multiple e comunque nelle impostazioni c'è modalità blocco attiviamola e configuriamola grazie alla modalità blocco potremmo dire al nostro telefono di non disturbarci nei modi selezionati da una certa ora a una certa ora della giornata oppure sempre poi ci sono i contatti che fanno eccezione per esempio quello del mio datore di lavoro che durante l'orario di lavoro può farmi squillare il telefono sempre qui nelle impostazioni vediamo che gli account sono stati tutti radunati nel menu principale delle impostazioni da cui potremmo aggiungere un altro account come vi avevo già accennato questa edizione non contiene multi view quindi la funzionalità di dividere lo schermo per usare più applicazioni contemporaneamente tale funzionalità è stato promesso che verrà introdotta da Samsung nell'Android 4.2 prossimo aggiornamento ah giusto e per chi non conoscesse questo easter egg dovete cliccare più volte ripetutamente sul nome della versione task manager tenendo premuto il tasto centrale da cui possiamo appunto chiudere le applicazioni swishandole verso l'esterno chiudiamone una ora premiamo su google now l'icconcina di google al centro si apre google now l'assistente appunto di google per tutte le nostre attività come vedete adesso c'è poca roba comunque ti dice quanto tempo ci vuole per arrivare a casa se sei a lavoro quanto tempo per arrivare a lavoro se sei a casa ma tutte quelle che possono essere mostrate sono queste qui informazioni sul trasporto i pubblici meteo voli appuntamenti che abbiamo fissato eccetera eccetera quindi ci dà un quadro generale di ciò che dobbiamo fare e anche qualche indicazione utile torniamo un attimo sull'aspetto fluidità in questo caso nella navigazione su una pagina web flash player è ancora installato perchè è stato aggiornato da ice cream sandwich comunque la velocità di ridisegno della finestra e del testo è questa qui rapporto sul consumo energetico a mio parere non consuma più delle precedenti rom come vedete in questo screenshot dopo più di 23 ore ho ancora il 40% di batteria sono stato quasi sempre con il wifi acceso il telefono è stato attivo sporadicamente come del resto lo schermo ne ho fatto un utilizzo diciamo molto scarso giusto per vedere l'orario fare qualche operazione sull'agenda qualche calcolo con la calcolatrice e poco altro quindi per un utilizzo diciamo blando non ha problemi ad arrivare a fine giornata questo qui è il secondo giorno di utilizzo quindi tranquillamente possiamo anche arrivare al terzo giorno arriva a sera del terzo giorno se non ne facciamo un utilizzo spietato come ho già detto prima i primi due o tre giorni dopo aver flashato jelly bean inspiegabilmente troveremo un dispositivo molto più laggoso di quello che è normalmente e che consuma molta più energia non so perché ma poi se aspettate migliora ciao